Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV, una prima edizione del nostro TG di oggi, quella delle 10 che apriamo subito con un aggiornamento sulla politica nazionale perché c'è attesa per la formazione della squadra di governo da parte del premier incaricato Mario Draghi che ieri ha ricevuto il Via Libera anche dagli iscritti al Movimento 5 Stelle che hanno votato sulla piattaforma Russo, un voto che ha scosso i pentastellati con Di Battista che ha detto di voler lasciare il Movimento 5 Stelle. Tornando alla formazione del nuovo governo, in queste ore Draghi sta lavorando e non è escluso che già nella giornata di oggi possa salire al colle per sciogliere la riserva tra questa sera e domenica, dicono i ben informati, leggiamo appunto la news in primo piano sul sito dell'Ansa. Come sempre vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi di questa crisi di governo, ma adesso voltiamo pagina e parliamo dell'indagine sulle mascherine che sono state distribuite anche al sistema sanitario nella prima fase dell'emergenza del coronavirus, mascherine che non proteggerebbero a sufficienza le persone che li indossano. Anche le autorità sanitarie del Friuli-Verenzia Giulia hanno ritirato in via prudenziale le mascherine in giacenza che facevano parte della fornitura di dispositivi individuali oggetto di un procedimento della magistratura su una maxi commessa da 72 milioni di euro per l'acquisto appunto di 800 milioni di mascherine dalla Cina durante la prima ondata della pandemia. In questo momento, dopo l'avvio di un'inchiesta giudiziaria principale, la vicenda viene seguita anche dalle procure di Trieste, Gorizia e Udine che hanno aperto relativi fascicoli. Lo stock giunto in regione ammontava a circa 60 mila mascherine. Non è ancora chiara la quantità di mascherine ritirate e che sarebbero state distribuite fino allo scorso mese di agosto. Sarebbe quindi probabile che i dispositivi appunto non vengano utilizzati da tempo. E rimanendo in tema di epidemia di Covid-19, per oggi è atteso il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità fondamentale per decidere un eventuale cambio di colore da parte per le regioni italiane. In Friuli-Venezia-Giulia, secondo le anticipazioni dei dati diffuse ieri, cala leggermente l'indice di contagio sceso sotto l'1%, 0,98 rispetto a sette giorni fa. Questo dovrebbe permettere alla ragione di rimanere in zona gialla anche la prossima settimana. La conferma appunto si avrà oggi e continua a preoccupare invece il tasso di occupazione delle terapie intensive che nella settimana dal 1 al 10 febbraio è aumentato, passando dal 35 al 38% quando la soglia di allerta è fissata al 30. I dati appunto sono stati forniti nella bozza del report dell'Istituto Superiore di Sanità. L'occupazione dei posti letto nell'area medica è invece scesa sotto la soglia del 40% dopo diverse settimane. Diminuito anche il numero dei focolai attivi e settimanali, compresi appunto i casi con focolaio non noto. E vediamo i dati forniti dal bollettino quotidiano della protezione civile che ci riferiscono di 400 nuovi contagi nelle ultime 24 ore su più di 10.000 tamponi con un indice di positività del 3,91%. Vediamo i numeri dei ricoveri in terapia intensiva, stabili, sopra quota 60, 66, uno in più rispetto al giorno precedente. Continua invece la diminuzione dei ricoveri negli altri reparti degli ospedali, 457. Diminuiscono anche le persone in isolamento, scese sotto le 10.000 unità, 9.714. Questi i dati regionali, andiamo a vedere adesso i dati nazionali che ci riferiscono di 15.146 nuove positività al Covid-19 rilevate nella giornata di ieri dal Ministero della Salute. Questo affronte di 292.000 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici rapidi con un tasso di positività che a livello nazionale sale al 5,2%, un punto percentuale in più rispetto alla giornata precedente. 391 le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 92.729. Le persone attualmente positive sono circa 405.000, 5.000 in più rispetto al giorno precedente. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 2.126, 338 in meno invece i malati negli altri reparti degli ospedali nazionali, 18.942. Sul fronte vaccinazioni sono oltre 2.800.000 finora le dosi somministrate. almeno 1.259.204 le persone alla quale è stata somministrata anche la seconda dose. Andiamo a vedere anche i dati del Friuli Venezia Giulia che ci riferisce di 73.696 dosi somministrate l'80,5% di quelle consegnate al Friuli Venezia Giulia. E adesso apriamo il collegamento con la nostra truppa esterna, con Luciana Idelfonso che si trova in Via Prachiuso a Udine. Questi gli anni scorsi erano giorni di festa per lo storico borgo udinese, per la festa di San Valentino che quest'anno causa Covid. Ovviamente non ci sarà. Allora andiamo a sentire che atmosfera si respira in Via Prachiuso. Buongiorno Luciana. Sì, buongiorno Angela, a te i nostri telespettatori. È un borgo prachiuso che solitamente in questo momento era già allestito e vestito a festa proprio per le celebrazioni di San Valentino. Alle mie spalle potete vedere la chiesetta dove solitamente si cercano le chiavette benedette per gli innamorati. Quest'anno il Covid dopo Santa Caterina ha fermato anche questa manifestazione. Gianluca, cosa accadeva gli scorsi anni? Tu sei uno dei commercianti del borgo. Sì, buongiorno a tutti quanti. Allora, come dicevi bene, in effetti a quest'ora si respirava già una certa aria di festa. E quindi i preparativi erano anche piuttosto concentrati. La festa prevedeva innanzitutto un'accoglienza per le persone, quindi anche portare avanti una tradizione che era piuttosto importante soprattutto per i cittadini di questa città. e lo spirito era molto elevato, era molto alto, insomma c'era serenità e si poteva a parte fare una passeggiata nel borgo, quindi anche conoscere oltre all'aspetto ecclesiastico, voglio dire, anche un po' la caratteristica di questo borgo molto importante. e purtroppo invece quest'anno, come dicevi, il Covid in realtà ha spezzato anche questa tradizione. Quindi quello che ci sarà, per quanto ne sono anche a conoscenza, sarà sostanzialmente, non saprei neanche se chiamarla più una festività, ma sarà sostanzialmente una giornata qualunque, una domenica come le altre, del resto. e quindi anche da parte dei commercianti, questo non aiuta nella maniera più assoluta e speriamo che questo in futuro possa terminare, ma che lasci anche un segno da un certo punto di vista. Il senso di San Valentino era un po' una boccata d'ossigeno per i commercianti del borgo? Assolutamente sì, assolutamente sì, era più che una boccata d'ossigeno, era un grande aiuto, ecco, un grande aiuto e sinceramente quest'anno l'umore, che è quello che si respira, è piuttosto basso e bisogna rendersi un attimino anche a quello che succede. Quindi questo è, ci aspetteremo comunque, un desiderio più che altro, un po' di gente che oltre alla parte nostra, quella di comunque tenere aperte le attività per mantenere alto anche un attimino lo spirito, ci si augura anche che le persone vengano a fare, insomma, una passeggiata da questa parte, oltre che per aiutare noi commercianti, ovviamente anche per mantenere un po' presente lo spirito di questa festività. E allora, mantenere le tradizioni, anche se senza bancarella e senza tutte le celebrazioni che solitamente si vivono nel borgo per la festa di San Valentino, la chiesa comunque sarà aperta, ci sarà la possibilità di fregare, di accendere un cero, di fare una pieghiera e di comprare le cosiddette che avete degli innamorati, insomma, che saranno disponibili come sempre. Quindi una festività di San Valentino, almeno qui in borgo, un po' sotto tono, ma raccogliamo l'invito di Gianluca, venite lo stesso a fare una passeggiata, magari a bere un caffè, qualche attività sarà aperta e quindi si potrà unire l'utile al dilettevole. Angela, a te la linea. Grazie a Luciano e Delfonso per questo collegamento. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo della questione sfratti. Sfratti lo sappiamo che sono stati bloccati nel tempo e questa condizione sta creando dei problemi a Confedilizia. Andiamo a sentire le parole del presidente di Confedilizia Udine, Scalettaris, che va a sapere anche di un'iniziativa proprio di Confedilizia a livello giudiziario. Sentiamo l'intervista di Valentina Bearsi. Il blocco degli sfratti sta causando notevoli problemi ai proprietari di immobili. Come vi sentite? La Confedilizia effettivamente condivide la grande preoccupazione e la grande sensazione proprio di ingiustizia che il provvedimento che è stato varato nel marzo dell'anno scorso e che continua ad essere vigente perché è stato recentemente prorogato dal decreto Mille Proroghe, il provvedimento che tratta in modo assolutamente ingiusto e in modo penalizzante come nessun'altra categoria di soggetti. È stato previsto che ciascun proprietario debba in sostanza sopportare singolarmente in favore del proprio inquilino la situazione derivante dall'emergenza. Fino ad oggi la situazione a Udine e in generale nella zona delle Friuli era una situazione tranquilla. Adesso questo invece potrebbe portare ad annuncumularsi di questi problemi. Eh sì, perché oramai da un anno a Udine non si eseguono più sfratti, si ha perciò una situazione di accumulo. Si consideri peraltro che è una situazione di accumulo che riguarda per buona parte sfratti che non hanno in realtà nulla a che vedere con le conseguenze dell'emergenza perché la sospensione ha iniziato ad operare con marzo del 2020 e perciò ha iniziato a riguardare provvedimenti che erano stati emessi prima del marzo 2020. Questo fatto che si abbia questo accumulo di provvedimenti ineseguiti comporterà che quando i provvedimenti potranno essere eseguiti, in questo momento la data che è fissata dal decreto Mille Proroghe è il primo luglio, si avrà effettivamente un problema di smaltimento di questo numero che ci sarà nel frattempo accumulato. Come Confedilizia avete deciso di prendere un'iniziativa? Sì, come Confedilizia, anche interpretando questa sensazione di ingiustizia che questo provvedimento provoca in tutti i proprietari, abbiamo ritenuto di cercare di sollevare la questione di costituzionalità della norma che dispone la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, abbiamo predisposto proprio uno schema di ricorso che ha la finalità di provocare appunto la questione di costituzionalità. Qui a Udine abbiamo già presentato da una quindicina di giorni questo ricorso in tribunale, siamo in attesa di avere una risposta. È arrivato il freddo annunciato nei giorni scorsi con temperature decisamente sotto zero in regione, in particolare in montagna. Questa mattina abbiamo visto meno 17 gradi sul Monte Lussari. Allora cerchiamo di capire qualcosa di più su questa ondata di freddo siberiano, soprattutto come proseguirà con Sergio Nordio dell'Osmerarpa che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Sergio. Buongiorno, ben ritrovati. Grazie innanzitutto di aver accolto il nostro invito. Ti chiediamo subito di raccontarci, magari darci anche qualche numero su questa prima giornata di freddo. Sì, beh, la situazione come abbiamo visto è finalmente cambiata, dico finalmente perché dopo settimane, se non addirittura periodi ancora più lunghi, di aria umida, abbiamo avuto dicembre, gran parte anche di gennaio e poi anche adesso fino a ieri praticamente correnti umide e tutto sommato mai tanto fredde, perlomeno su pianura e costa, mentre in montagna c'era già stato freddo nel mese di gennaio. Quindi la situazione è cambiata. Sono arrivate correnti fredde settentrionali che tra l'altro finalmente diventeranno anche più secche perché questo è l'altro elemento importante, arriva aria continentale che continuerà ad affluire nella giornata di oggi in maniera un po' più moderata. Invece domani riprende l'intensità, quindi ci sarà più vento, più bora sulla costa, sulle zone orientali, ma si sentirà vento anche in cuore e correnti continentali decisamente più secche e ancora più fredde nei prossimi giorni. Quindi siamo destinati ad avere temperature in ulteriore calo con valori che scenderanno parecchio. Secondo te che livelli si potrebbero toccare, ovviamente sotto zero? Vi siete fatti un'idea? Certo, appunto come sentivamo già prima sull'Ussari meno 17, stamattina avevamo meno 14, a Sapada meno 12 nel Tarvisiano a Fondovalle. Sono valori destinati a scendere parecchio nelle prossime ore, quindi la prossima notte, ma poi direi soprattutto le noti tra sabato e domenica e anche tra domenica e lunedì, probabilmente toccheremo in meno 8, meno 10 in pianura, localmente in pianura potremo scendere anche a meno 12 perché la massa d'aria è molto fredda e valori che vanno oltre i 20 gradi sotto zero nel Tarvisiano, chiaramente Fusine, sappiamo che un po' il nostro capitale del freddo si arriverà diciamo abbastanza facilmente intorno ai meno 25, meno 28 gradi, soprattutto appunto domenica mattina e lunedì mattina. Quindi valori decisamente bassi, non sono da record estremo, perlomeno questo appare, e poi il bilancio ovviamente bisognerà farlo tra qualche giorno, sono comunque valori decisamente bassi, direi che sono quasi 30 anni che non veniva così freddo nel mese di febbraio. Sergio, nelle altre regioni italiane, in particolare al sud, è prevista anche la neve, da noi il vento di Bora atterrà lontane le precipitazioni nevose. Sì, è così, noi siamo soggetti, siamo la prima regione sempre stata dalle correnti continentali, però da noi arrivano molto secche perché attraversano appunto tutta l'Europa dell'est e quindi non sorvolano mare e quindi non si arricchiscono di umidità, quindi diciamo che la prospettiva di avere giornate belle a partire da domani con cena in prevalenza sereno non è così al sud Italia perché chiaramente c'è il mare Adriatico che contribuisce ad arricchire di umidità queste correnti, quindi sul pennino centro-meridionale ma fin sulla costa ci saranno nevicate, per il momento da noi in Friuli Venezia Giulia e direi anche nel Triveneto non sono invece a te le precipitazioni. Grazie allora Sergio Nordio per tutte queste spiegazioni e buon lavoro. Ciao a voi, buona giornata a tutti, arrivederci. E allora abbiamo visto anche le montagne dello Zoncolan innevate, diciamo che non c'è bisogno che arrivi neve fresca sulle nostre montagne, piste dello Zoncolan che sono state scelte per gli allenamenti delle campionesse dello sci nazionale. Martina Bassino e Federica Brignone infatti si alleneranno tra le porte larghe del gigante. I tracciati del Friuli Venezia Giulia ogni anno vengono scelti per la preparazione tecnica, dei campioni per l'eccellenza e la qualità dei percorsi e in questo periodo sono oltretutto in uno stato ottimale per il consolidamento del manto nevoso. Già lo scorso mese le nazionali straniere maschili e femminili dello sci avevano scelto un comprensorio della regione per gli allenamenti, le nevi di Tarvisio. E prima di passare dallo sci al calcio, prima di collegarci con la Dacia Arena, una notizia che riguarda un progetto di ricerca archeologica in Libano dell'Università di Udine. Si è conclusa a metà dicembre 2020 la quarta campagna del progetto archeologico Libano settentrionale. Nonostante i limiti d'azione imposti dalla pandemia, i risultati sono stati notevoli. La campagna di ricognizione mirata ad alcuni villaggi dell'area del distretto di Koura ha portato al ritrovamento di due insediamenti antichi nel villaggio di Fia con importanti attestazioni risalenti al bronzo antico e all'epoca classica. Ulteriori evidenze di occupazioni antiche databili per lo più al periodo tardo antico bizantino sono state rinvenute anche in altri siti limitrofi. La campagna è stata condotta dalla missione congiunta italo-albanese diretta da Marco Iamoni del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e May Haider dell'Università libanese con la direzione delle Antichità del Libano e la partecipazione dell'Istituto Francese di Beirut. Gran parte dei lavori si sono concentrati sul recupero di informazioni cartografiche relative all'area di studio conservate a Beirut. E adesso siamo pronti per andare alla Dacia Arena da Alessandro Surza che sta testando se fa davvero freddo all'esterno della Dacia Arena. Allora Alessandro buongiorno, subito a te la linea. Buongiorno Angela, un saluto dall'esterno della Dacia Arena. Qui c'è vento, si sta per preparare anche l'Udinese per scendere in campo l'allenamento come tutta questa settimana sarà svolto durante la mattinata ed è l'ultimo allenamento vero e proprio per così dire perché l'Udinese ormai si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di domenica all'ora di pranzo contro la Roma. Ultimo allenamento perché poi domani c'è la classica rifinitura poi con le parole di Gotti e quindi la partenza verso la capitale. Un allenamento che l'Udinese proseguirà secondo i dettami tattici del tecnico Veneto che continua a pensare alla soluzione senza Pereira perché il Tuku uscito anzitempo nella sfida contro il Verona non ci sarà. Due o tre settimane per lui di stop ma torna a Depol. Di conseguenza la formazione è praticamente già fatta. Al posto del Tuku ci sarà Wallace, Makhengo scalpita ma il brasiliano è in vantaggio. Per il resto non si dovrebbe toccare nulla quindi anche dietro i classici tre difensori saranno Samir, Bonifazio e Noiting. Si va verso questa linea difensiva con Becao per la seconda volta di fila in panchina. Scelta difficile però adesso c'è abbondanza. Gotti ha anche di questi problemi per una volta finalmente. Visto che durante tutto questo campionato l'emergenza difensiva è stata sempre molto alta. Bisogna fare attenzione alla Roma perché nonostante le tante voci di un ambiente caldo che sta per scoppiare la Roma resta una squadra assolutamente da temere, una squadra forte. Quarta in classifica ha perso contro la Juventus è vero. C'è il caso Dzeko che non si sa ancora se giocherà o meno ma in caso è pronto Borca Majorale. Insomma nonostante tutte le difficoltà che la Roma può avere assolutamente l'Udinese non deve commettere l'errore di sentirsi troppo brava anche perché la Roma recupera Shalawi, recupera Pedro, partiranno dalla panchina probabilmente però sono elementi importanti in particolare l'ex Milan, il faraone, ha fatto gol più volte ai bianconeri quindi insomma si pronuncia una sfida tosta e come ha detto De Polo è una partita che può dire tanto sul futuro dei bianconeri perché si può capire se l'Udinese è diventata davvero grande oppure se rincapperà negli errori e dovrà ricominciare a costruire il mattoncino. La gara contro il Verona ormai è dimenticata, ne sono passati già cinque di giorni quindi ci si sta proiettando proprio solo sull'Olimpico. La squadra è concentrata, Okaka continua il proprio miglioramento della propria condizione fisica ma davanti si va verso la conferma del duo spagnolo che tanto bene ha fatto domenica scorsa Llorente e De Olofeu, scalpita anche Jaden Braff che vuole esordire ma per lui insomma come ha spiegato Gotti serve un po' di tempo non bisogna buttarlo nella mischia, non bisogna bruciarlo. L'Udinese quindi si allenerà tra non molto insomma e poi di conseguenza se dovessero esserci ulteriori novità nel corso chiaramente della giornata dei prossimi TG e anche di pomeriggio calcio saremo pronti ad aggiornarvi. Intanto a te Angela un saluto e approfitto anche di salutare e augurare buona giornata anche ai nostri telespettatori. Grazie ad Alessandro Surza per tutti questi aggiornamenti. Noi prima di salutarci andiamo un attimo sul web, sul sito del TG Com 24 in particolare per riprendere alcune dichiarazioni di Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico. Agostino Miozzo che oggi in un'intervista su Repubblica è intervenuto un po' a 360 gradi sull'attuale situazione di rischio regata al coronavirus, su eventuali riaperture e per quanto riguarda la riapertura dei ristoranti la sera ha detto sarebbe anche possibile se solo fossimo in grado di garantire un ricoroso meccanismo di controlli cosa che fino ad ora non è stato. Immaginate cosa può succedere se riaprono i ristoranti la sera ai Navigli o a Trastevere ma c'è anche un'altra Italia che non può essere penalizzata ha detto Miozzo che poi sulle regioni che continuano ad andare in ordine sparso anche sulla campagna vaccinale ha detto al Presidente Draghi suggerisco il ricorso all'articolo 120 della Costituzione che prevede il potere di sostituzione del Governo centrale laddove le autorità locali non siano in condizione di garantire i diritti costituzionali previsti. di queste le parole di Miozzo mentre per quanto riguarda la conferenza Stato-Regioni vediamo che le regioni hanno chiesto una proroga dello stop agli spostamenti si occuperà di questo probabilmente oggi il Governo in una riunione straordinaria con un nuovo decreto si valutano anche nuove aperture in vista però del prossimo DPCM. Siamo in chiusura e allora vi ricordo come sempre velocemente i principali appuntamenti di oggi su Udinese TV le nostre finestre in diretta dedicate all'informazione alle 12, alle 16, alle 19 e alle 22 e 30 alle 20 e 30 le cronache dal Veneto poi per quanto riguarda il calcio c'è pomeriggio calcio come ogni giorno alle 15 e alle 19 e 30 la rubrica Benvenuti al Bar Gigia alle 21 in prima serata Mondo Chef e a seguire a tu per tu con il procuratore De Nicolo. È davvero tutto per il momento ci rivediamo più tardi alle 12. Grazie a tutti.